Si tratta di un milione di euro all'anno oltre IVA per sei anni minimo rinnovabili di altri sei, per cui parliamo potenzialmente di 12 milioni di euro più IVA, che sono stati assegnati secondo noi in maniera un po' spregiudicata e in violazione purtroppo di norme nazionali importanti in tema proprio di variazione di bilancio. Per cui è bene verificare, è bene controllare sia nel merito della scelta della squadra, perché non è stato fatto un bando e soprattutto perché non è stato fatto uno studio precedente di valutazione delle opportunità e di quelle che sarebbero state ricadute sul territorio di questa scelta. Il piano marketing non esiste, nel senso che non ci sono degli studi fatti in regione Abruzzo che giustifichino la scelta del Napoli piuttosto che di un'altra squadra. Ci si dice nella delibera che la scelta è stata fatta perché il Napoli è l'unica squadra del Sud che gioca in Serie A e che partecipa alla Champions League. Bene, in Champions League credo che non ci partecipi più quest'anno, ma partecipi in Europa League, quindi già uno dei presupposti per i quali è stato scelto il Napoli cade, ma soprattutto chi lo dice che scegliendo la squadra del Napoli, se non c'è uno studio fatto prima, scegliendo la squadra del Napoli si avrà il maggior ritorno possibile per regione Abruzzo piuttosto che scegliendo, che so, il Milan, la Juve o un'altra squadra. Mancano le coperture, questa è una delle criticità più gravi e di irregolarità più gravi, nel senso che la legge nazionale ci dice che ogni volta che si approva una variazione di bilancio, l'ente, quindi la regione, deve prevedere le coperture per tutta la durata di una legge e di un contratto. Questo contratto, questa convenzione dura per sei anni, minimo, forse rinnovabili di altre sei, le coperture previste ci sono soltanto per il primo anno. I soldi che sono stati impiegati erano i soldi di Abruzzo Sviluppo, dedicati al microcredito per le imprese abruzzesi, che in questo periodo di crisi economica evidente che tutti noi stiamo vivendo è francamente inaccettabile. Io sono andata spesso negli anni a Roccaraso e turisti campani in generale, adesso non so se è solo di Napoli, ma campani in generale ne ho visti sia d'estate che d'inverno. Io mi sarei orientata più su un target di turisti che magari qui non ci viene e non conosce già il nostro Abruzzo. Ma ripeto, non esistono i secondo me, esistono degli studi che devono essere fatti, che altre regioni fanno per indirizzare bene le risorse e che in questa regione non sono stati fatti.